A Molfetta si è tenuta la quarta edizione del Trofeo del Sole, dedicato a Marta Veneziano, che ha coinvolto più di 300 ragazzi. Il servizio. Una giornata l'insegna della sana competizione, dell'inclusione e del rispetto delle regole, le stesse che disciplinano lo sport e la vita. Trofeo del Sole è la gara remiera organizzata dall'Istituto Amerigo Vespucci e dalla Lega Navale di Molfetta per ricordare la docente di scienze motorie Marta Veneziano, prematuramente scomparsa nel 2017, si rinnova nella sua quarta edizione coinvolgendo l'entusiasmo di 300 studenti provenienti da tutta Italia. È una bellissima manifestazione che stiamo portando avanti per ricordare una carissima collega che ha fatto dello sport la sua ragione di vita, ma soprattutto dei valori dello sport. Lei ha portato nella nostra scuola, ha avuto questa intuizione di avvicinare i ragazzi del tecnico nautico, che era nato da poco nel nostro istituto, allo sport della voga. Per cui lei ha preso i primi contatti con la Lega Navale ed è nato questo sodalizio. Quando Marta ci ha lasciato abbiamo preso questa sua eredità e abbiamo pensato di dedicare a lei questa competizione. Questa competizione è che negli anni è cresciuta, abbiamo avuto anche ragazzi che sono venuti da fuori, addirittura dalla Slovenia, il primo anno anche dalla Slovenia. Ed è bellissimo vedere tutti i colori delle squadre, delle varie scuole, è destinata ai ragazzi delle scuole superiori e ai tecnici nautici. Per cui è bello vedere tutti questi colori accomunati dalla passione per il mare. Per cui noi porteremo avanti il progetto di Marta. Grande attenzione alla solidarietà. Durante la manifestazione, infatti, non sono mancati momenti emozionanti riservati alle vittime del mare e alla popolazione dell'Emilia Romagna colpita dall'alluvione. Noi ci teniamo molto a questa collaborazione, non solo con questo istituto, ma anche con altri istituti, proprio per unire questi giovani ed avvicinarli a questo sport. Il mare è importantissimo per la nostra città e anche per i ragazzi. Questo sport è uno sport di gruppo, dove i ragazzi devono essere molto uniti per poter far andare la barca, l'imbarcazione. Quindi vogliamo trasmettere questo proprio a questi ragazzi.